Ciao dal Cardo Maniano, scusate la voce ma sapete come avevo detto già nell'altro video sono con influenza. Nonostante tutto volevo registrare questo video e dedicare questo fiore di bacca, il Clemensis, a una persona molto carina che è scritta anche nel mio gruppo di Facebook perché è stata molto molto gentile con me, quindi farò una descrizione di questo fiore. Ho deciso di riprendere con il Cardo Maniano che ho trascurato molto questo canale e mi dispiace perché questo è il canale dove io esprimo me stessa e esprimo molto la mia persona. Allora ho deciso che ho dato tanto al mio hobby che continuerò sicuramente, però mi fermo un po' con il canale delle creazioni, proprio per riprendere con questo canale, per dare di più a questo canale che ho trascurato molto e non voglio trascurarlo più. Quindi riprendo con questo canale, non fermo il mio hobby assolutamente, ma fermo i miei video sull'altro canale, lo lascio un po' per un pochino, in modo che posso dedicarmi completamente a questo canale e spero che mi seguirete, che vi posso trasmettere qualcosa di buono, perché di buono in me c'è tanto, ma come ognuno di noi c'è sia il buono che il cattivo, ma io spero sempre di far valere la parte buona di me, perché è quella che io tengo a tirar fuori. E adesso vi lascio con una breve descrizione di questo fiore, scusatemi di nuovo per la voce, ma non volevo rinunciare a fare questo video. Vi auguro a tutti un buona serata, dal Cardo Mariano, a presto!